Hanno chiesto maggior considerazione i titolari e direttori artistici delle scuole di danza fanesi che ieri si sono uniti per chiedere agevolazioni al Comune e alla Fondazione Teatro della Fortuna. Infatti vorrebbero ottenere un prezzo accessibile per i loro saggi di fine anno nel palcoscenico più importante della città. Dopo aver raccolto le loro richieste, oggi ha risposto l'assessore alla cultura Stefano Marchegiani. Siamo incontrati tre volte da quando ci siamo insediati. Il tema c'è delle scuole di danza perché per la prima volta sono venuti nell'ultimo incontro insieme, finalmente, perché qualche dissidio anche tra loro c'era e io ho aperto una possibilità di confronto su un progetto. Perché è vero che queste scuole di danza che hanno tanti iscritti e fanno una meritoria attività legata al benessere fisico e artistico, devono essere considerate. Noi purtroppo abbiamo un teatro molto costoso perché ha un impianto di riscaldamento che andrebbe cambiato e anche in questo senso ci stiamo muovendo per un progetto più contemporaneo che possa diminuire il gran numero di maschere che questo teatro comporta e che sono spese. Ovviamente viene una cifra ingente e io al telefono a Cosimo Greco ho detto guarda io te la comunico anche, ce l'abbiamo pronta, ma siamo a 25 mila euro. Ora, fino a che punto il Comune che ha un taglio nei finanziamenti, diciamo, nelle disponibilità di spesa corrente rispetto all'anno scorso di 4 milioni e mezzo, deve chiudere un bilancio entro marzo, può impegnarsi in queste ore. Quindi ci mettiamo a disposizione per una collaborazione vera, la Corte ci sarà, sarà al meglio delle sue possibilità, poi vediamo se serve qualcosa a teatro, lo concordiamo, sapendo che l'amministrazione per ora ha le contribuzioni sospese fino alla chiusura del bilancio.